In collaborazione con Val di Fiemme, Schirama Dolomiti Adamello Brenta, Ponte di Legno Tonale, Trento Monte Bondone e Valle dei Laghi, Alpe Cimbra Folgaria Lavarone, Vicina da Non Crederci, Funivie Folgarida e Marilleva. Cari amici degli spettatori, ben ritrovati da Floriano Momoni, seconda parte di Sport Adotti, la multipiattaforma TV e web, tutta dedicata al turismo e allo sport. In questa puntata parliamo di neve, montagna e sport invernali. Venite con noi! Sotto questa splendida nevicata siamo arrivati nella Val di Fassa, questa valle ladina al cospetto delle Dolomiti. Qui si respira sci, neve e montagna, 360 giorni all'anno. Siamo con Davide Moser, che è il presidente del Comitato Organizzatore dei Mondiali Juniors 2019, di Scialpino 19, 27 di febbraio 2019. Qui ci terranno questi campionati mondiali, 54 nazioni presenti, 800 atleti da tutto il mondo, per scoprire chi ancora non conosce le bellezze della Val di Fassa e delle Dolomiti. Un grande evento per voi, complimenti per aver ottenuto questo grande risultato, Davide. Sì, un grande evento, molto atteso, molto sentito, dal quale noi siamo molto orgogliosi di aver avuto l'onore dell'assegnazione. Tutto è quasi pronto per accogliere tutti questi atleti e tecnici di tutto il mondo. Abbiamo il mese scorso testato la nuova pista, la volata, con le gare di Coppa Europa, dove abbiamo potuto constatare che le piste sono assolutamente appetibili per eventi anche di maggior valuta. Tutto è stato organizzato nel migliore dei modi come prevedibile, perché abbiamo un team molto competente, con grande esperienza e che sicuramente non si farà trovare impreparato per le gare del prossimo anno. Ecco, Val di Fassa, qui siete già a piste azzurre, un accordo con la Fisi, qui vengono gli azzurri e i tanti atleti della Coppa del Mondo ad allenarsi con le settimane bianche, dove sono a disposizione degli turisti per scegliere insieme, per filmare autografi. Coppa Europa, come hai detto, siete pronti per eventuali Olimpiadi del 2026, Olimpiadi delle Dolomiti. Diciamo che questi mondiali sono un piccolo antipasto di quello che veramente avete in serbo per il futuro di questa bellissima valle dello sport italiano. Sì, questi mondiali sono sicuramente un trampolino di lancio per eventi più grandi, come hai detto tu. Noi non siamo ancora pronti, ma non ci faremo cogliere impreparati, siamo entusiasti di questa opportunità che abbiamo e vorremmo dimostrare di poter essere all'altezza anche per eventi di massimo livello. 60.000 posti letto avete in questa valle, 60.000 asciatori che vengono qui ogni settimana a sciare, a scoprire le bellezze dell'Olimpiadi e della vostra valle. Sì, sono numeri importanti, i posti letto sono tantissimi, in questi giorni qui sono tutti pieni, però dobbiamo fare in modo di cercare di riempire questi posti letto per più tempo possibile, in modo da dare un po' risalto anche ai nostri panorami un po' a livello mondiale. Suzuki è la vettura ufficiale di Sportador TV, in questa puntata andiamo a scoprire le bellezze e le novità di questo inverno 2018 dalle nostre montagne più belle. Siamo arrivati nella bellissima schiaria della Paganella, questo consorzio sciistico al centro del Trentino, facilmente raggiungibile dall'uscita autostradarale del Brenno di Mezzo Lombardo di Trentonor. In soli dieci minuti siamo in questa bellissima montagna al centro del Trentino con un panorama a 360 gradi dal Lago di Garda alla Val d'Adige, alle Dolomiti di Brenta, alle Alpi austrieche. Siamo con Ruggero Ghezzi che è il direttore qui del consorzio della Paganella Schi. Ruggero è una stagione che è parita molto bene, va avanti fino a Pasqua, quattro mesi di intenso sci e soprattutto una grande offerta sciistica che vi pone tra i primi posti nel mondo del panorama alpino. Sì, via anche quest'anno, 2017-2018, si è aperta la stagione bene, con neve naturale, abbiamo compensato anche con neve artificiale, ci sono delle piste meravigliose, si scia in maniera fantastica. L'apertura ha dato anche buoni risultati, perciò è attesa per sciare. E poi un'offerta ideale, come vediamo, per la famiglia. Voi avete molto a cuore i bambini, che sono poi gli sciatori del futuro, nuovi scuola baby, campi proprio attrezzati, quindi l'offerta vostra è proprio verso le famiglie. Sicuramente sì, siamo specializzati per quanto riguarda questo target di sciatori, ma non solo sciatori. Come potrai vedere, vedi, ci sono tanti luoghi dove sono attrezzati per bambini, per divertimento, ma non solo per bambini, anche per ragazzi, ma anche per adulti poi alla fine, perché sui gonfiabili vediamo che si divertono anche gli adulti. Siamo a due passi dalle città più importanti dell'asta del Brennero, quindi facilmente raggiungibile, grande divertimento, grandi attrezzature e anche una grande assistenza da parte del personale esperto. E infatti per non all'esperto qui abbiamo Deborah. Allora, come funziona Deborah? Lo so che sei un po' timida, ma spiegaci come funziona la vita qui dei bambini, che cosa fate per voi? Siete una società specializzata proprio nella cura, nella gestione dei bambini, i genitori vengono, giocano con i bambini, possono lasciarli qui e i genitori andare a sciare. Come funziona Deborah? Beh, direi che noi proviamo in tutti i modi a far divertire i bambini di tutta l'età, come ha detto Ruggero. Ci sono scivoli, giochi gonfiabili, di tutto. Qualsiasi cosa si voglia noi proviamo a darlo a questi bambini. Poi, vabbè, oltre al divertimento dello sci, c'è anche questo divertimento, diciamo. Poi noi teniamo i bambini anche dai quattro anni in su, quindi i genitori che avessero voglia di andare a sciare, noi teniamo questi bambini e cerchiamo di farli divertire. E voi, quanti campi scuola ci sono qui? Campi scuola, cioè quanti asili ci sono qui in tutta la Paganella? Dici come campi giochi? Sì, allora c'è il nostro, il Dosson, dove c'è la sala interna dentro al rifugio dove possono stare al caldo i bambini e giocare con gli animatori e c'è anche la parte esterna con gli scivoli gonfiabili. Poi c'è anche dall'altra parte della montagna, diciamo, c'è il Biblioglue, questa biblioteca dove si fanno anche all'interno i gonfiabili e c'è anche la parte esterna con i gonfiabili e le ciambelle e poi ce n'è una anche giù in paese ad Andalo. Complimenti Devora, sei stata molto esplicativa nel spiegare le grandi peculiarità di questo territorio Paganella Ski, Andalo e Paganella, facilmente raggiungibile. Siamo saliti ai 1600 metri della pista Salizzona, alle mie spalle una delle piste nere più bella delle Alpi, dell'Alpe Cimbra guardate che panorama che si guarda a 360 gradi, nessuna montagna grande intorno, si vedono le Dolomiti, le Alpe Austrieche il Brenta, l'Adamello, il Bondone per arrivare al Pasubio e poi alla Valle d'Adige. Qui incontriamo Daniela Vecchiata che è la direttrice dell'azienda per il turismo dell'Alpe Cimbra vicina da Roncherici, panorama stupendo, una stagione che è partita col botto i primi di dicembre che andrà avanti fino a Pasqua, quattro mesi di sci, di neve, di montagna, veramente come non si registrava dagli ultimi anni. Sì, è proprio vero, è una stagione incredibile, l'aspettavamo, ce la siamo meritata perché in questi anni abbiamo fatto tutti una gran fatica ma i nostri turisti sono stati e oggi siamo qui con piste perfettamente innevate, una stagione partita bene su Sant'Ambrogio e su Natale e che continuerà fino al 2 di aprile e quindi quest'anno la Pasqua sarà sugli sci. Da qui fino ad aprile tantissimi eventi, tantissime iniziative sulle nostre piste, dagli ski test più famosi delle Alpi come il Tour delle Alpi e lo ski test del Pulitalia per chi vuole provare le anteprime del prossimo anno quindi bruciamo il marzo a Luserna, faremo la Ciaspomagna Cimbra, quindi una ciaspolata enogastronomica nella bellissima area di Mille Grobe, sono tanti i motivi per venirci a trovare e io vorrei lanciare un invito anche a tutti, quando nevica si viene a sciare perché ultimamente sentiamo dire, ah ma nevica, allora aspettiamo, il momento più bello per sciare è quando nevica. Non siamo mai contenti, o ce n'è troppo, o ce n'è poco, ma come si deve andare avanti per vivere bene e per doversi la montagna? Daniela, tu che veramente fai tanto per questo territorio e tutti ti sono grati per il tuo gran lavoro perché l'Alpi e Cimbra è una grande realtà nel mondo del turismo. Guarda, io credo che il bello della montagna sia proprio quello che in qualunque condizione si può fare qualcosa quando nevica si può comunque sciare, la neve fresca è la cosa più bella, si impara anche una tecnica diversa è un'occasione per provare anche lo sci nordico, anche per chi non è così abile ma è un'emozione bellissima in gruppo. Le ciaspole e se proprio non volete fare nulla centri benessere nei nostri hotel, buona cucina trentina e tante tante attività per i bambini quindi anche loro non si annoiano mai e poi l'aria buona, guarda che giornate quindi non ci sono alibi, noi vi aspettiamo fino al 2 di aprile. Ok, noi aspettiamo il tuo invito, grazie per aver fatto, tu dove vai invece? Io vado a sciare perché sono già stata troppo ferma, grazie, ciao! Ciao, alla prossima, ciao, ciao! Ed ora con la nostra autovettura ufficiale di Sportador TV andiamo a scoprire le bellezze delle nostre Alpi e delle nostre montagne. Venite con noi! Schirama Dolomiti ad Amello Brenta, un consorzio turistico che raduna 8 eccellenze scistiche del Trentino sono 8 località del Trentino occidentale partendo da est verso l'Alpecimbra, il Monte Bondone, la Paganella, Pinzolo, Madonna di Campiglio Folgari dai Mari, Levapeio e il passo del Tonale insieme con l'unico schipa si può fare 380 km di piste. Siamo con Andrea Pedretti che è responsabile marketing delle funevie di Pinzolo anche voi, Andrea, aderite a questo importante consorzio che è Schirama per vendere meglio la vostra località ma vendere meglio anche tutto il territorio. Esatto, esatto, come hai detto bene, l'unione fa la forza, vuol dire che ci siamo messi insieme siamo 8 società del Trentino per promuovere queste bellissime località e in particolare oggi ci troviamo a Pinzolo, a Pinzolo che è la porta d'accesso di questa bellissima schiarea la schiarea Campiglio, Dolomiti di Brenta, Val di Sole e Val Rendena. Ecco, voi fate 150 km di piste sui 380 dello intero Schirama quindi siete una forza importante di questo territorio, di questa offerta e soprattutto 8 località che non si calpestano in piedi perché ognuna ha la propria peculiarità. Qual è quella di Pinzolo? Sì, come hai detto bene sono 150 km di piste che ricordiamo sono collegate sci ai piedi quindi uno parcheggia la macchina qui a Pinzolo, entra nella schiarea e si gode in piena libertà tutti questi 150 km di piste. A Pinzolo la nostra peculiarità è quella di avere un'offerta che diciamo varia varia sia per quanto riguarda la proposta per le famiglie e mi piace ricordare che a Prarodont quest'anno poi abbiamo ulteriormente allargato la zona di Prarodont e a disposizione c'è un nuovo campo primi passi e un campo primi passi tutta un'altra musica perché sarà tutto ambientato nel mondo della musica con dei giochi musicali interattivi quindi è tutto da scoprire per i nostri piccoli ospiti che si apprestano a scoprire questo bellissimo mondo della neve e dello sci. Ma soprattutto una stagione che si preannuncia sotto i migliori ospici è iniziata presto, già fino a novembre, prima di dicembre e va avanti fino ad aprile. Sì, diciamo che è iniziata sotto i migliori ospici noi abbiamo avuto un Sant'Ambrogio da tutto esaurito le piste sono perfettamente innevate abbiamo tutte le nostre impianti sono aperte e tutte le nostre piste sono a disposizione di tutti i nostri gentili ospiti che vengono a trovarci da qua fino a Pasqua perché la stagione è veramente veramente lunga. E' arrivato l'inverno ed è arrivata la neve è tempo di Schirama Dolomiti ad Amello Brenta le più belle località del Trentino ti aspettano per una stagione invernale indimenticabile ricca di novità e tanto divertimento sulle piste da sci le località del consorzio Schirama Dolomiti ti aspettano quando il gioco si fa duro e per le sfide di ogni giorno c'è Cetilar doppia forza al tuo massaggio il massaggio con il nuovo Cetilar aiuta a ridurre il dolore articolare vieni in Piemonte per le tue vacanze invernali oltre 50 località scistiche, moderne e funzionali migliaia di chilometri di piste che attraversano scenari unici ti aspettano per farti scoprire ed amare le gioie della montagna Piemonte, tutta la neve che vuoi per maggiori informazioni www.piemonteneve.it Bertrand, Performing Team Wear A Folgaria, nel cuore dell'Alpe Cimbra in Trentino il Rifugio Stella d'Italia e il Rifugio Baita Tonda vi aspettano di giorno sulle piste da sci e di notte con le cene con trasporto con Gatto delle Nevi e Motoslitta www.rifugiobaitatonda.it Caspolada di Vezza d'Oglio La corsa con le caspole al chiaro di luna La corsa con le caspole al chiaro di luna Cari amici telespettatori stessa ora, stessa frequenza e mi raccomando venite sempre con noi Ciao e arrivederci da Floriano Voboni alla prossima settimana In collaborazione con Schirama Dolomiti Adamello Brenta Val di Sole Alpe Cimbra Folgaria Lavarone Vicina da non crederci Paganella Schi Ponte di Legno Tonale Val Sugana Funivie Folgarida e Marilleva Ponte di Legno Tonale